Interrogazione di Giovanni Perrino sui costi del servizio sanitario. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle vuole conoscere quali provvedimenti la Giunta regionale intende adottare per realizzare anche nel sistema sanitario lucano le best practices possene essere nel Policlinico Sant'Orsola di Bologna, che mirano a reinvestire i risparmi ottenuti nel miglioramento della qualità dei servizi prestati ai pazienti. I costi del servizio sanitario regionale, dice Perrino, raggiungono cifre da capogiro, spesso senza raggiungere i livelli di qualità ed efficienza sufficienti per i pazienti lucani. Sul funzionamento della sanità, inoltre, aleggia lo spettro della manaia governativa renziana che produrrà una diminuzione dei trasferimenti anche per la Basilicata. Affinché i tagli non vadano a toccare già precari livelli assistenziali, per il capogruppo del Movimento 5 Stelle sarebbe opportuno porre maggiore attenzione agli esempi virtuosi, come quello del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, che utilizza succo di ananas o mirtillo come liquido di contrasto. A fronte dei 28 euro al litro del liquido di contrasto chimico, spiega Perrino, il succo di ananas o mirtillo costa solo 80 centesimi al litro.